Ho alcune funzioni, alcune funzioni che sono la polizia urbana, il personale, le frazioni, turismo, sport e cultura, bilancio e tribù. Queste sono le funzioni che io mi riservo di... ...che con le varie deleghe... Allora, gli assessori nominati sono i signori. Poi abbiamo Di Salvo Roberto Salvatore, Leone Maria Grazia e Romano Santo. La rene Sebastiano avrà anche la funzione di vice-sintaco e come delega avrà l'ecologia, rapporti con il Consiglio. Grazie a tutti e grazie di essere venuti. Oggi, come abbiamo ben annunciato, avremo la postituzione della squadra che inizierà questa esperienza amministrativa. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza dell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Repubblica. Ho visto tutti, ma le ragazze è la quota rosa della gente, che non è una cosa, anche giovane, mi suggerisce. Quindi, da parte giovanile, non perché... E' molto gentile. E' molto gentile. E quindi, voglio farti questo omaggio, quale è da parte mia e da parte di tutti. Grazie. 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 Grazie.